Ciao, sono Elena Carraro, sono qua al raduno con il coach Ultra, siamo qui a Valencia in Spagna, siamo alla metà della seconda settimana e come potete vedere il clima è molto diverso da quello che c'è in Nord Italia, ci stiamo riuscendo a allenare molto bene. Sono qua appunto con, oltre al coach che mi segue abitualmente, sono qua con un altro gruppo, il gruppo di Ultra, quindi siamo in un bel po', stiamo riuscendo a fare un bel lavoro, delle belle esercitazioni, tante cose nuove e quindi riusciamo a vedere nuove prospettive e a fare degli allenamenti anche con altri atleti. E niente questo andò molto bene, io purtroppo dovrò abbandonare a fine settimana il raduno, diciamo un passo importante della mia carriera, quindi purtroppo per fortuna, però ecco diciamo che consiglio a tutti di fare un'esperienza del genere perché la qualità dell'allenamento è molto alta diciamo in un contesto di questo tipo. Ciao!